Loredana Bertè ha recentemente attraversato un periodo di preoccupazione per la sua salute, trovandosi costretta a ricorrere a un ricovero per approfonditi accertamenti a causa di un improvviso malore. Questa situazione ha inevitabilmente comportato la cancellazione del suo atteso concerto programmato per l'11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, che ora è stato posticipato al 15 maggio. Il comunicato ufficiale del suo staff esprime il dispiacere per l'accaduto, spiegando che la rinuncia a salire sul palco è dovuta a un acuto dolore addominale che la talentuosa cantante, 73 anni, sta affrontando. Loredana Bertè, giunta nella capitale già da domenica, nutriva grande entusiasmo per esibirsi in una città che le è particolarmente cara, grazie al suo pubblico straordinario. La nota informa che la data è stata tempestivamente riprogrammata per il 15 maggio 2024, sempre presso il Teatro Brancaccio. La buona notizia per i fan è che i biglietti già acquistati saranno validi anche per la nuova data, mentre coloro che si trovassero impossibilitati ad assistere potranno richiedere il rimborso del biglietto. Prima dell'imprevisto, Loredana Bertè aveva annunciato con entusiasmo il suo Manifesto Tour, un viaggio nei teatri italiani che avrebbe portato non solo la sua musica ma anche la sua straordinaria vita di artista, raccontata attraverso le performance sul palco, andando oltre i testi delle sue celebri canzoni. Attendiamo con ansia il ritorno di Loredana Bertè sul palco, pronti ad essere illuminati nuovamente dalla sua straordinaria creatività. Con affetto e speranze di una pronta guarigione, inviamo a lei e al suo pubblico un messaggio di sostegno e positività.